Il principio era il verbo e il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste, in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini, la luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l'hanno vinta. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Gesù ha detto, distruggerò questo tempio, ma in tre giorni lo ricostruirò. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Applausi. 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 Grazie a tutti.